L'Italia fa passi in avanti nella raccolta e smaltimento dei rifiuti differenziati. Il rapporto Ispra evidenzia un trend in crescita con importanti miglioramenti soprattutto nel mezzogiorno, ma alcune regioni sono costrette a inviare all'esterno del proprio territorio tonnellate di rifiuti per la mancanza di impianti. Campania e Lazio sono le principali esportatrici di frazione organica, un dato che porta alle stelle i costi di gestione dell'immondizia. La media nazionale per lo smaltimento è di 35 euro, ma in Campania si arriva a 44 euro. La regione riesce a lavorare in autonomia soltanto il 16% dell'organico prodotto, inviando fuori regione circa 500.000 tonnellate. Quasi la metà è spedita in Veneto, ma conferimenti vengono effettuati in Spagna, Portogallo e Danimarca. La media italiana di differenziati si attesta sul 58%, con soltanto 7 regioni, 6 del centro-nord e la Sardegna, che riescono a superare il livello minimo accettabile del 65%. A livello provinciale spiccano le città di Treviso, Mantua, Belluno e Pordenone, le quali fanno registrare percentuali di raccolta superiori all'80%. Agli ultimi posti Sicilia, Molise, Calabria e Puglia, ma con percentuali nettamente migliori rispetto al passato. In Francia si continuerà ad andare in pensione a 62 anni. A confermarlo è stato il premere Edouard Philippe, durante la presentazione dei contenuti della riforma previdenziale, la stessa che ha dato vita alle proteste di questi giorni. Un passo indietro rispetto all'idea originale di estendere il limite di età a 64 anni, che ha messo sulla graticola il presidente Macron. Ma il governo non cede e Philippe annuncia che i francesi verranno comunque spinti a lavorare più a lungo, perché si tratta di una necessità per mantenere in equilibrio il sistema pensionistico. Dal secondo dopoguerra, in Francia, ci sono 42 casse pensionistiche e ognuna si organizza autonomamente con i limiti di età. L'idea di Macron è stata quella di passare a un sistema uguale per tutti, con una formula a punti per calcolare la pensione. Si è pensato ad alzare il limite dell'età pensionabile, ma la smentita di oggi dimostra l'efficacia delle proteste che hanno mandato in tilt il paese per diversi giorni. Le sardine chiudono le porte a Casa Pound, dopo che a Roma il loro attivista, Stephen Nogongo, aveva dichiarato in un'intervista al fatto che le piazze sono aperte a tutti. Da qui, l'adesione da parte dell'organizzazione dell'estrema destra. Questo ha mandato in vibrazione il resto del movimento, che si è sposto in maniera decisa contro queste ipotesi. Il Dictat è arrivato dal quartiere generale di Bologna. I fondatori hanno sottolineato come Forza Nuova e Casa Pound rappresentano gruppi non graditi. L'intervento di Ocongo è stato definito da tutti una grossa ingenuità. Il ramarico maggiore da parte degli organizzatori è la strumentalizzazione selvaggia e generalizzata di queste parole. Questo errore per loro è frutto di un equivoco su cui i dettagliatori hanno montato ad arte un caso per creare divisione nel movimento. Piazze blindate dunque per i fascisti. Pochi giorni fa c'era stata ancora una volta grande sorpresa in seguito ad un post Facebook pubblicato da Francesca Pascale. La compagna di Berlusconi dichiarava in un post di ammirare il loro spirito combattivo, ma di non aver deciso ancora se scendere in piazza al loro fianco o meno, o spegnere ogni possibile contestazione, ci aveva pensato uno dei leader, Mattia Sintori, dichiarandosi contento in caso di un eventuale sostegno della Pascale. Beneficenza improvvisata in autostrada. Un tir carico di panettoni e pandori si è ribaltato sulla caserta Roma all'altezza di Nola, invadendo la corsia opposta. L'impatto, per quanto spaventoso, non ha causato altri danni oltre quelli al mezzo. L'autista è stato estratto vivo dall'abitacolo ed è ad oggi ricoverato all'ospedale di Nola. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nello schianto. La merce era destinata a finire sugli scaffali dei supermercati locali in occasione delle festività. La ditta proprietaria si è subito attivata per recuperare quanto possibile all'interno del mezzo, ma molte unità sono uscite dai container. Chili e chili di dolci natrizi invendibili. L'occasione è stata colta immediatamente non dai presenti, come hanno riportato alcune testate prima della smentita della polizia stradale di Caserta, ma dalla stessa ditta. Hanno deciso, infatti, di regalare quei pandori e panettoni ancora in buone condizioni agli automobilisti bloccati in coda e rimasti per ore in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Scuse deliziose per il disagio. Non possiamo cambiare il mondo da soli. Questo lo slogan che l'Europa si è data alla conferenza sul clima di Madrid. Una storia di trasformazione attraverso 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030 per un mondo migliore, più giusto e sostenibile. Negli ultimi 5 anni l'Europa ha ottenuto accesso agli anticoncezionali per 51 milioni di donne, vaccini per 13 milioni di bebè e garantito l'istruzione a 68 milioni di bambini. Sui tavoli paralleli della Coppa 25 temi cruciali per l'applicazione degli accordi di Parigi e monitorare il riscaldamento globale, dal taglio delle emissioni alla regolamentazione per il mercato del carbonio, fino al risanamento dei disastri ambientali dati dal cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo. Tanti forum dedicati all'innovazione, alla scienza a favore di un'azione per il clima, soluzioni sostenibili per le grandi sfide globali, come quella della mobilità in un mondo sempre più popoloso. Non sono mancati flash mob, come la dimostrazione di attivisti e attivisti di Extinction Rebellion, che ben dati si sono spogliati davanti allo stand di Endesa, la più grande società di energia elettrica in Spagna. Muti hanno lasciato che le scritte sui loro corpi parlassero per loro. Esigiamo che si dica la verità, basta mentire per mantenere le cose sempre uguali, ha detto Isidre Castagné del Movimento, che continua Endesa e la compagnia che inquina di più in Spagna deve smettere di fare greenwashing. Stanno priorizzando gli interessi alla sopravvivenza dell'essere umano nel pianeta. Chiedono giustizia climatica e potere alle persone, perché le belle parole dei governi non sono abbastanze e bisogna agire per fronteggiare il cambiamento climatico. Acqua Foundation dimostra le conseguenze della deforestazione, un male non solo per l'ossigeno di cui tutti abbiamo bisogno, ma anche perché impedisce che l'acqua sia pulita, che il terreno non si disperde da anni del ciclo della vita. Waterlife è la ONG che ha sviluppato il più piccolo filtro d'acqua del mondo. Le dimensioni sono quelle di una cannuccia. Il valore è di 10 euro e può essere riutilizzato fino a due anni. Immerso nell'acqua, di fiume, piovana o di strada, rimuove i batteri e la purifica, una soluzione per eliminare la plastica, ma soprattutto a sostegno delle popolazioni che non hanno accesso all'acqua potabile.